eccoci qui pur e allora siamo in un nuovo video solidale e il video diciamo come avete visto al titolo curiamo Antonio e aiutiamo Antonio in collaborazione sempre coniamo il potenza quindi mettiamo già la carta e poi vi spieghiamo quindi ecco la foto avete visto la foto della carta come in occasione della spesa solidale della promoscia d'oliva nella carta del presidente Angelo Triani adesso lo scopo è sempre importante e va aiutato a togliere allora per ora sono stati raccolti con l'associazione solo con l'associazione Ampilpotenza 700 euro l'obiettivo è quello di arrivare a 5 mila perché comunque se facciamo tutti la propria la nostra parte nel nostro piccolo ovviamente le disponibilità riusciamo ad aiutare comunque chi ne ha veramente bisogno esatto e comunque i soldi si possono anche consegnare direttamente ad Angelo Triani all'associazione l'associazione Ampilpotenza come aveva dimostrato già con la spesa solidale Polo e Lollo cercano di aiutare nel nostro piccolo con la visibilità che possiamo dare esatto quello che possiamo dire di aiutare quindi di andare a mettersi in contatto con Angelo Triani o donare questi soldi direttamente sulla carta e quindi comunque Ampilpotenza oltre a questa iniziativa va avanti anche sempre aiutando famiglie è sempre un'associazione per la comunità per la comunità quindi ognuno facesse la propria parte anche in questo periodo di crisi e di difficoltà economica è quello che possiamo dire aiutiamoci fra di noi quindi quindi aiutiamo a andare questa volta quindi vi ringraziamo e salutiamo tutti ciao